Che cosa sta succedendo ai medici e agli specializzanti in Corea del Sud? E che cosa c'entra con noi e col nostro sistema sanitario nazionale? Sono contentissimo che anche a Breaking Italy si stia piano piano cominciando a parlare di sistema sanitario nazionale. Quindi quando dall'anteprima ho sentito che avrebbero parlato di questo argomento, ho detto perfetto, lo guardo poi, ma lo registro così ci possiamo ragionare e commentarlo insieme. Come al solito ascolterò un filino accelerato io Breaking Italy, cioè lo ascolto per due fisso, non riesco a meno, faccio questo sforzo per voi. E solo a 1,25, cioè per me è come se stesse parlando così. Però vabbè, so che poi a voi dà fastidio, quindi cominciamo. Spostiamoci quindi in Corea del Sud, perché è ormai più di una settimana che vanno avanti proteste di medici e specializzanti che hanno visto coinvolto un numero piuttosto elevato, notevole, di professionisti del settore che si lamentano di questioni non poi così dissimili da quelle riscontrate dai medici anche in Italia, anche se poi arrivano a delle conclusioni differenti, quasi opposte per alcuni aspetti, ed è forse uno degli elementi che rende interessante questa vicenda, visto che noi, del nostro servizio sanitario nazionale e delle sue difficoltà, abbiamo iniziato a parlarne sempre di più. Ni, cioè diciamo che se ne comincia a parlare, in nicchie sempre più larghe sicuramente, e ne sono una prova a tutti i video che realizzo nei quali leggo e commento le notizie, quando ci sono articoli che raggiungono quella che potrebbe essere definita una massa critica di persone, non sono mai precisi e rinforzano solo dei luoghi comuni e degli stereotipi sbagliati. Per l'emozione stavo facendo cadere il microfono. Gli studenti specializzanti, shai ti prego, ti prego no, ti prego non dire così anche tu, vedi? Quindi, ecco, quello che ho detto prima, non ce la possiamo fare. Quando si parla di medicina, di sistema sanitario nazionale, di formazione, di università medica, qualsiasi cosa che riguardi quest'ambito, se ne parla sempre nel modo sbagliato. Inevitabilmente, cioè, adesso devo trovarlo ancora a chi non sia caduto, pazzesco. Il funzionamento degli ospedali è che da lunedì hanno presentato in massa le proprie lettere di dimissioni, evitando di presentarsi al lavoro a partire dal giorno successivo. Fate conto che stiamo parlando di più di 1600 professionisti che hanno scioperato e di circa 6400 tirocinanti. Allora, punto 1, questa cosa in Italia non succederà mai. La classe medica è divisa, litigiosa, invidiosa. Qualcosa che venga fatto in massa non si vedrà sostanzialmente mai. Si è visto per la prima volta a dicembre scorso, ma solo perché si è trattato di un giorno di sciopero e di cui peraltro si è parlato poco e male. Punto 1. E su questo vi rimando un po' all'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera. La situazione vera della medicina in Italia è descritta proprio dal protagonista. Dove viene detto in un passaggio sostanzialmente rassegnore di dimissioni, convinto che tutti i suoi colleghi si sarebbero mobilitati per lui, sarebbe bastata anche una minima mobilitazione eccetera. E quindi convinto che poi grazie al sostegno avrebbe potuto ritirare dimissioni. Questo sostegno non arriva e lui si dimette e va a fare il lavavetri. Questa sarebbe la situazione riscontrabile in Italia. In Corea del Sud invece spero, e da quanto mi ha detto qui mi sembra che possa essere abbastanza certo, che invece i medici riescano a muoversi in blocco. Quindi avere effettivamente un potere contrattuale. Alto un secondo, ti è utile questo contenuto? Te ne vorrei portare tanti altri, ma per farlo occorrono molte risorse. Strumentazione, tempo, videomaker, grafici, programmi eccetera. Quello che puoi fare proprio ora è sostenere questo progetto, offrendomi l'equivalente di un caffè al link che trovi qui sotto, oppure entrando nella community. Tutto verrà usato per portarti sempre più contenuti. Inoltre puoi iscriverti al canale, mettere mi piace e condividere questo video. In questo modo ci farai crescere e ci permetterai di collaborare con realtà sempre più importanti, e dunque portarti nuovi contenuti. Perciò proprio tu puoi fare tanto per questo progetto. Mi fa strano, come al solito, leggere qua 6400 tirocinanti. Allora, il tirocinante, il tirocinio è una cosa ben specifica. Si fa durante il corso di laurea, può essere un tirocinio abilitante, può essere un tirocinio curricolare, può essere un tirocinio extracurricolare, eccetera eccetera, ma è degli studenti di medicina. Gli studenti di medicina non sono medici. Quelli che qua definiscono tirocinanti probabilmente sono specializzanti, e gli specializzanti sono medici in formazione. Che hanno presentato le dimissioni da 5 degli maggiori ospedali dell'area della capitale Seoul, cioè un numero che rappresenta più della metà dei giovani specializzanti nel paese. Voi figurate qualcosa di simile in Italia, io no. Perché? Le proteste si scagliano contro un piano presentato dal governo sudcoreano che prevede di aumentare i posti disponibili nelle facoltà di medicina, portandoli dai premio attuali... No, vabbè. ...a circa 5000 a partire dal prossimo anno accademico, per arrivare poi a raggiungere i 10.000 entro il 2035. Secondo il governo, tale... E per questo scioperano, per questo scioperano, sono persone intelligenti, sono persone normali, cioè... Adesso capisco il mio collega di corso che ha lasciato l'Italia, è andato in Corea del Sud a Seoul per più di un anno, cioè... Adesso capisco, bravo Lorenzo, ti capisco in pieno, cioè... Hai voluto circondarti di persone intelligenti e sensate, hai fatto bene. L'eumento servirebbe a risolvere, o perlomeno alleviare, un'importante carenza di personale dovuta anche al rapido invecchiamento della popolazione locale, che porterebbe il paese ad avere circa 10.000 medici in meno rispetto al necessario, nel giro dei prossimi 10 anni, appunto. Questa carenza si riscontrerebbe nelle aree rurali e periferiche del paese, non so se ricorda qualcosa, ma anche in alcuni settori specifici, come la medicina di urgenza, pediatria e ostetricia. Da noi questo non è, sicuramente in pediatria, in ostetricia dipende, nel senso che i nostri ginecologi, che sono ginecologi ostetrici, tendenzialmente si focalizzano di più sulla parte ginecologica, e le carenze in ostetricia sì, ci sono. Di nuovo, non so se ricorda qualcosa. Ora, coloro che protestano sostengono che questa decisione del governo porterà in realtà diversi problemi alla quale staff sanitario, tra cui un aumento della competizione, che potrebbe potenzialmente portare un sovraccarico di cure, dicono, non necessario per i pazienti, anche se a me che sta roba non convince, ve lo devo dire, perché non è che aumenta il numero dei medici e quindi i medici si accamiscono e ti danno più pastiglie del necessario. Non lo so, è una roba che non mi convinto, ti dia il mio... Allora, non convince tanto neanche me, però c'è un razionale effettivamente in quello, perché l'ho citato anche in un altro video. C'era un mio strutturato durante la scuola di specializzazione che diceva sempre pletora, medicorum, mors, certa. Cosa intendeva? Che se ci sono troppi medici su un paziente, ognuno poi dice la sua, facciamogli anche questo, no, potremmo fare questo, ma io ho letto quell'altro, allora facciamo così, che? E quindi su questo potrebbe avere un razionale. Non è il motivo probabilmente fondante per non aumentare i posti, perché non vanno aumentati i posti in medicina. Avremo la predietola medica che c'è già, peraltro, ma peggiorerà nei prossimi due o tre anni fino ad arrivare tra dieci anni quando avremo sessanta, e ripeto, sessantamila medici in esubero. Sessantamila medici in esubero. Non lo so, non mi convince questa cosa, ma oltre a questo anche una diminuzione degli stipendi. In generale comunque i manifestanti sostengono che il piano del governo non tenga conto dei veri motivi per cui si è creata questa carenza di personale in certe aree, che sarebbero infatti le durissime condizioni di lavoro e i salari troppo bassi. Questioni che le amanti del personale non andrebbero a risolvere. Anche qui però c'è da dire che lo stipendio dei medici non sembra essere poi così basso, perlomeno secondo dati riportati in un articolo della BBC, che sostengono che gli specialisti sudcoreani sarebbero tra i meglio pagati al mondo con uno stipendio medio di circa 180.000 euro l'anno. Un chirurgo generale del sistema sanitario nazionale in Italia guadagna circa 3.000 euro al mese, a cui bisogna togliere l'assicurazione, l'impam, l'iscrizione all'ordine, tutto questo obbligatorio ovviamente, i corsi di formazione che si paga e tanto altro, giusto così, per dare una proporzione reale. Io che sono stato assunto da un anno, dopo sei anni di medicina, un anno di abilitazione, un anno e mezzo che mi hanno fatto perdere prima di fare il concorso nazionale per permettermi di accedere alla specializzazione, cinque anni di specializzazione, un anno di lavoro, guadagno 2.800 euro al mese. Sul contratto dovrei fare 38 ore alla settimana e non vi dico il resto. Medio. Però c'è anche da stolineare che gli orari di lavoro dei specializzandi, quelli sono davvero esagerati. Un sondaggio dell'Associazione Coreana Specializzandi ha rilevato che in media questi lavorino quasi 80 ore a settimana con turni che arrivano a durare più di 24 ore. E purtroppo qua si tocca un altro argomento centrale. Queste situazioni si ritrovano anche in Italia, con la differenza che non è innanzitutto lo standard, fortunatamente, e l'altro punto che non riguarda tutte le specializzazioni. Questa non è una giustificazione ovviamente. Il percorso che vi ho spiegato io era del chirurgo generale. La stessa cifra la guadagna un igienista, un ortopedico, un nefrologo, un pediatra, un microbiologo, solo che tutti questi specialisti non fanno le stesse ore in ospedale e non hanno neanche lo stesso carico di lavoro. Discorso speculare vale per le specializzazioni. Purtroppo in Italia innanzitutto non c'è un sistema di standardizzazione della formazione. Quindi faccio l'esempio classico. Uno specializzando di neurologia di una scuola specializzazione di Milano, Statale, Bicocca, San Raffaele, Humanitas, che sono magari a 15 km di distanza uno dall'altra. Ecco, lo specializzando fa delle vite completamente diverse. Lavora un certo numero di ore in una, in un'altra, in un'altra, in un'altra, avrà un curriculum formativo diverso, lavorerà un numero di ore diverse, eccetera eccetera. Non c'è un sistema generalizzato di raccolta delle presenze, le timbrature non valgono assolutamente niente quando viene dato il badge e la possibilità di timbrare. Però dai sondaggi che si fanno emerge chiaramente che queste stesse situazioni di turni di oltre 24 ore, di 80 ore di media di lavoro a settimana, ci sono anche in Italia. Per capirci, in Italia un contratto full time, esclusi eventori straordinari, prevede che si lavori 40 ore a settimana, con peraltro dibattiti ormai sempre più vivaci, cerca la possibilità di ridurle quelle ore. Giusto? Ho anticipato questo punto, che non sapevo avrebbe trattato, ma ecco, vedere i minuti prima. Per mettere un po' le cose, poi lo so che magari i medici lavorano di più, però per mettere le cose in prospettiva, 80 ore sono effettivamente tantissime. Però se dottori specializzanti si oppongono a questo piano, un altro sondaggio ha rivelato che gran parte della società civile non medica si dichiara invece a favore, concorre con l'idea del governo. Nel resto pare che nel 2022 la Corea del Sud avesse 2,6 medici attivi ogni mille persone, un dato che ben al di sotto della media dei 3,7 dei paesi facendo parte dell'Ocse, che è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Quindi il fatto di dire eh però poi se ci sono troppi medici questi si accaniscono, cioè di nuovo, nella maggior parte dei paesi Ocse la media è ben superiore e quindi ci sta anche... Tra cui l'Italia, ok? ...le persone siano d'accordo con il fatto di aumentare il numero di medici. È comprensibile. Ora, come dicevamo, un sacco di specializzanti stanno aderendo alle proteste. Da quando hanno iniziato sono circa 8.000 quelli che hanno deciso di partecipare e sebbene si tratti di una porzione piuttosto piccola rispetto alla totalità dei medici sudcoreani che ammonta circa 100.000 professionisti, la loro assenza sta comunque causando dei disagi. Ma dai! E' anche a suo modo controversa nelle modalità di protesta. Perché invitare di presentarsi al lavoro in blocco è significato che alcuni grossi ospedali siano stati costretti a cancellare fino al 50% delle operazioni chirurgiche e a respingere i pazienti che necessitavano di cure di urgenza oltre a accusare in generale un sovraffollamento dei pronto soccorso. E questo è un discorso che dovremmo fare specularmente in Italia. specializzandi in Corea del Sud e in Italia. Cioè in Italia lo specializzando è un medico in formazione non uno studente come ha detto Shai e non può essere utilizzato da tappabuchi perché è appunto informazione e dovrebbe avere un'autonomia crescente. E' la stessa cosa in Corea del Sud? A me quello che risulta è che lo specializzando per esempio qua si dice che delle sale operatorie eccetera eccetera che lo specializzando opera non come in Italia che fa il terzo se non il quarto operatore su un intervento che richiede due operatori o che debba elemosinare per poter lavorare e che non venga formato e venga messo poi in condizione una volta che arriva nel mondo del lavoro ancora di essere nello stesso punto di partenza. Con un lavoro extra che è ovviamente finito sulle spalle dei medici rimasti. Una situazione così grave che ha portato il governo sul coreano pensate a dare un ultimatum a coloro che hanno a diritto alle proteste che saranno puniti con una sospensione di almeno tre mesi della licenza medica e altre sanzioni legali se non torneranno al lavoro il primo marzo. Ora il punto principale dell'intera questione è che la Corea del Sud e l'Italia hanno degli elementi che li accomunano come paesi principalmente sociali e demografici l'invecchiamento della popolazione la scarsità di medici e anche le proteste non mancano medici mancano specialisti e mancano specialisti solo di alcune branche altro errore standard che si fa nella formazione non mancano cardiologi dermatologi chirurghi plastici endocrinologi mancano medici di medicina dell'emergenza urgenza anatomopatologi microbiologi chirurghi generali e solo in certi posti per i motivi che spiego in altri video quindi piantiamo questa fregnaccia del mancano medici non mancano medici mancano specialisti di alcune branche guarda caso nelle branche in cui si lavora di più si è pagati di meno si hanno guardie notti reperibilità che non vengono neanche riconosciuti altro piccolo biscottino che vi do per una reperibilità che vuol dire essere attaccati al telefono non poter andare da nessuna parte uno prende 20 euro ok? per una notte intera 20 euro a notte ok? giusto per capirci ok ok ma non sono al contempo completamente sovrapponibili manualmente mentre lì si vorrebbero limitare il numero dei medici pare che la categoria medica in Italia stia invece spingendo per assumerne di più in modo che questi vadano così a compensare la carenza di personale anche perché ricordiamoci che tutti i giorni noi perdiamo 10 medici dal sistema sanitario nazionale che vengono assorbiti dal privato o che vanno all'estero e altro dato perché qua si parla di numeri che un medico per essere formato allo stato costa 220 mila euro fate il conto moltiplicati sul totale quello che sarebbe da fare è far sì che non ci sia l'emorragia è fermare l'emorragia non continuare a fare entrare gente a medicina vista come uno dei motivi principali delle difficoltà del sistema sanitario nazionale e poi ci siano anche nuove discussioni per superare il numero chiuso nelle università come anche per quanto riguarda il tema delle cose di studio proprio per gli specializzanti e garantire così un accesso programmato alla facoltà di medicina però quello che volevo stolineare è come nonostante ci siano delle similitudini in paesi che sono lontanissimi ma simili per tanti aspetti sistemi diversi portano a delle reazioni diverse in delle comunità che però realisticamente sono simili perché il lavoro del medico qui è uguale al lavoro del medico lì non è vero questo è assolutamente sbagliato come vi dicevo innanzitutto il riconoscimento sociale è diverso l'approccio è completamente diverso in Italia per essere un medico completo devi arrivare a 45 anni 50 se ti va bene in certi casi non sarai mai un medico completo nella tua branca in particolare delle branche chirurgiche mentre in Corea del Sud quando arrivi a 40 50 anni smetti di operare fai solo il mentore hai un accesso diverso alla tecnologia ai fondi alla formazione e tutto quanto no questa è un'altra cavolata non è vero che è lo stesso lavoro mi spiace prende soltanto da come si organizza il lavoro si organizza il sistema sanitario nazionale o il sistema medico chiamiamolo più genericamente così e appunto differenti strade portano a differenti scelte e a differenti proteste quindi in generale lo so che è una mia piccola ossessione quella dei sistemi di come dobbiamo organizzare i sistemi no è giusto però so che la ritiremo fuori perché tanto si continuerà a parlare di sanità e quando si continuerà a parlare di sanità ritirerò fuori questa questione della Corea del Sud e magari la approfondiremo ancora di più cercheremo di capire cosa ad esempio spaventi tanto i medici sudcoreani che invece tende a non spaventare quegli italiani che invece servono a volere più colleghi e più investimenti e più gente nelle università no questo non è vero non è assolutamente vero che i medici italiani vogliono più gente nelle università sono quelli fuori che non conoscono la medicina e che non capiscono niente di medicina che vogliono che non ci sia più il numero programmato sono quelli fuori che dicono eh vabbè ma c'è la selezione naturale no non funziona non ci sono abbastanza laboratori non ci sono abbastanza persone per formare i medici non ci sono neanche abbastanza pazienti per formarlo quindi no anche Shai mi è caduto porca miseria ha fatto è interessante quello che ha portato bella ricostruzione ma ha fatto degli errori come fanno tutti grossolani non accettabili purtroppo errori grossolani disinformativi e su luoghi comuni no falso le conclusioni errate mi spiace no niente ci ho detto con questa ci ho detto niente con questo frame anche finale che è molto sia esatto chiudi no questa Shai ti prego quando parli di medicina la prossima volta informati meglio perché non è così aiutatemi a far sì che la redazione e o Shai vedano questo video taggate qua sotto Breaking Italy condividetelo su tutti i vostri social mandatelo a chi pensate possa essere interessato vi ricordo l'importanza di iscrivervi al canale e di sostenere questo progetto lo potete fare con una donazione tramite Paypal trovate il link qui sotto ricordatevi di scegliere la modalità parente d'amici oppure potete sostenerci tramite Patreon e avere accesso così a contenuti esclusivi o in anteprima live gruppi telegram in cui ci sono dei tutor con cui potete scambiare delle idee e dell'esperienza in tutta sicurezza lasciare un bel like commentare con i vostri pensieri le vostre esperienze io vi ringrazio per l'attenzione vi do l'appuntamento a un prossimo video ciao